Ciao ragazze, oggi sono qui per farvi vedere le mie ultime compere si tratta di compere Kiko in realtà mi sono fatta attirare praticamente dallo sconto sui mascara e io appunto, grande amante di mascara non potevo non provare questi mascara che in realtà credo sono usciti da un bel po' però appunto io non avevo mai avuto occasione di provarli e adesso appunto stavano in sconto a soli 3,90€ così appunto ho deciso di andare a vedere per appunto provarli il primo che ho preso è praticamente il False Lashes Concentrate Allungante il mascara appunto allungante si tratta, ovviamente ragazza per quanto riguarda l'inci io neanche l'ho controllato per non avere completamente paura ma siccome in realtà queste mascara più particolari sono dei mascara che io utilizzo pochissimo magari lo utilizzo quando esco, quando faccio un trucco un po' particolare invece per quanto riguarda la routine di ogni giorno io continuo ad utilizzare il mio mascara della Benecost e appunto questo qui, quello è allungante e questo qua, quello verde che hanno un packaging bellissimo bisogna dire quindi questo è quello allungante che dovrebbe avere, lo apro lo apro qui appunto davanti a voi perché ancora in realtà neppure l'ho aperto anche se vi dico ragazza, la Kiko controllate sempre cosa c'è dentro perché a volte anche le ragazze stesse noi stesse appunto ma non mettiamo le cosucce a la Kiko vedete? a questo scovolino molto molto particolare dovrebbe avere le fibre credo l'avevo letto così da qualche parte quindi questo è quello allungante è 3,90€ perché appunto in saldo poi ho preso sempre della Force Lashes Concentrate quello invece è volumizzante questo volumizzante sempre allo stesso costo di 3,90€ spezzate se riesco ad aprelo con una mano un po' complicato packaging bellissimo anche perché è il mio colore preferito il viola il viola un viola si diciamo Force Lashes Concentrate forse non si vede perché comunque è un packaging che è abbastanza fluorescente cerco di aprirvelo per farvelo vedere e questo invece è volumizzante cerchiamo di aprirlo con una mano avrete avuto un cappuccino allora eccolo qui lo scovolino è molto molto particolare potete vedere che qui è stretta e invece in fondo è più larga vedete? molto particolare beh, vediamo se funzionano a parte l'inci che bisognerà chiudere un occhio però come vi dicevo sono per i miei trucchi un po' più particolari per il trucco della domenica perché per il trucco giornaliero io continuo ad utilizzare di solito appunto ogni giorno non mi trucco al massimo se esco metto solamente semplicemente la matita Benekos è il mascara Benekos è un lipgloss semplicemente cioè non mi trucco affatto un bretti o così del genere è appunto un trucco molto semplice e semplice quindi questa appunto per le cose un po' più particolari poi ho preso un lipgloss che adoro in realtà ah, per quanto riguarda i mascarini devo dire che hanno una scadenza di sei mesi sei mesi ok sei mesi quindi non di più e per quanto riguarda invece il lipgloss ho preso questo lipgloss che io adoro infatti è la seconda volta che compro extra volume lipgloss builand allev e questo costo 6,90 euro e ho preso il numero 14 ok ed è questo qui viola che non vi faccio vedere perché in realtà non l'ho aperto perché ancora ho talmente tanti gloss quindi il colore si vede benissimo bellissimo lilla viola un pochetto un po' più scuro forse comunque sì così molto bello bello lo straconsiglio e dura anche parecchio sulle labbra beh se le volumizza pochetto sì pochetto le volumizza ma forse non è davvero di pochissimo poi vi mostro un lipstick che in realtà non è mio perché io non amo moltissimo il lipstick numero 13 se l'ho preso mia mamma per appunto ve lo faccio vedere perché magari vi possa servire per il colore è un bel marroncino perché lei adora i marroni quindi il numero 13 ok aspettatevi faccio uno sguoccio perché tanto lei lo userà quindi posso farvi tranquillamente lo sguoccio un bel marrono scuro 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 lei adora questi colori molto sporti anche se devo dire che anche io in passato li adoravo però ora non più in realtà ora ne ho più i colori chiavi i colori nude e non questi colori particolarmente scuri poi ho preso questo in realtà l'ho preso perché ho visto che ha un incida tazza è semplicemente favoloso quindi provare da Kiki eh sì da Kiki scusate trovare da Kiko un prodotto che abbia un inci prima vi faccio vedere un inci cioè ragazze guardate un inci semplicemente favoloso mica zea starch glicerina nylon opacizzante acqua cioè potete vedere sono tutti verdi anche il zea starch è verde e poi praticamente sono che giallo qualche giallo che è un emolliente è un colorante è un opacizzante è un preservante quindi comunque potete vedere un inci semplicemente favoloso per quanto riguarda lo zea starch che io non riuscivo a trovare in realtà anche questo è verde perché c'è appunto scritto qua su sai cosa ti spalmi che consiglio a tutte se volete controllare qualcosa ecco appunto potete vedere che è verde è un prodotto carboidrato altamente ottenuto dai semi pelati del mais quindi comunque questo prodotto è completamente verde e parlo ragazze del blush dell'ultima collezione di Kiko io ho preso il numero 404 Sultus Burgundy ok poi non so se tutti gli altri colori sia la stessa cosa ovviamente parlo per il numero 4 che ha questo inci semplicemente favoloso ragazza e io appunto l'ho preso proprio perché sapevo che aveva questo inci favoloso perché ragazza in realtà prima di comprare qualsiasi cosa sia io guardo le review sui blog di bellezza o comunque su youtube cioè prima di comprare è difficile che io compri qualcosa ad occhi chiusi anche se è capitato e ora appunto vi mostrerò cosa mi è capitato quindi ho preso questo qua perché sapevo che avevo un inci favoloso che il colore mi faceva impazzire quindi non potevo non prenderlo vediamo se riesco ad aprirlo ecco con una mano è difficilissimo si tratta si vedono si tratta di un bellissimo viola che qui in realtà non si vede bene purtroppo comunque è un viola favoloso ragazze ecco ecco guardate così è molto simile è un viola bellissimo è un viola chiaro e poi accanto vi è una specie di rosella quasi lilla molto chiaro bellissimo ragazze bello 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 vediamo se riesco a farvi uno swatch magari se riesce a vedersi meglio tanto già il mio ditino c'è vedete un bel viola allora ragazze è un blush che sembra proprio un viola scurissimo a dire il vero però secondo me cioè se lo mettete veramente in modo delicato verrà un bellissimo effetto e poi secondo me è utilizzabile anche come ombretto io ce lo vedo molto appunto vi farò sapere se è utilizzabile anche come ombretto comunque è un bellissimo viola scuro e un viola chiaro mi dispiace che appunto non renda moltissimo ecco così rende tantissimo è proprio così bello 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 straconsigliato ragazze e solo per l'inci ne vale la pena trovare a latico un prodotto con un inci perfetto questo è il prezzo di 10 euro è fatta così con questa corteccia molto bella invece adesso vi parlo di una compara che mi ha deluso particolarmente sono andata in un negoziato nel mio paese ho trovato questo prodottino olio corpo olio di argan 0% parabeni 0% olominerali coloranti allergeni del profumo come vi dicevo questo è stato un prodotto di cui non ho controllato prima è della omia della omia ragazze in realtà questo prodotto una volta che sono tornata a casa mi ha deluso particolarmente come potete vedere nell'inci vi è solamente argania spinosa olio di argan e il profumo ragazze una delusione su questo prodotto hanno fatto anche un video quelli di striscia la notizia insospettiti un po' dal prezzo abbastanza basso e costato solo 5 euro lo hanno fatto esaminare dal laboratorio e appunto hanno visto che in realtà non si tratta di un vero e proprio olio di argan in realtà appunto sono veramente delusa come possa esserci nella produzione italiana è qualcosa dove appunto si può dire che c'è olio di argan e poi in realtà all'interno non c'è veramente dell'olio di argan cioè veramente non capisco come ancora possano tenere dei prodotti veramente dei prodotti in vendita questa azienda che appunto si vede che è pochissimo seria perché appunto se accade qualcosa io sto usando questo olio convinto che sia un olio di argan e poi in realtà non è un olio di argan cioè io veramente ragazze non capisco come possa accadere ciò quindi vi lascio il video sotto appunto il video di strisciare la notizia dove vi è questo 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 video veramente ragazze completamente delusa da quest'olio non so neppure come utilizzarlo nel video dicono che in realtà vi sia olio di hoho ma ora arrivato a questo punto non so neppure cosa sia cosa ci sia qua dentro quindi magari non lo so lo uso per le unghie lo butto non ne ho idea ragazze credo che lo utilizzerò per le unghie alla fin fine non credo che possa fare malissima le unghie ma quello che è sicuro è che non lo utilizzerò assolutamente per il corpo ragazze guardate il video guardate il video allora poi ho preso una spazzola e non una spazzola scusate un pettine un pettine di legno io in realtà cercavo quella di Emanuela Emanuela Biffoli Emanuela Biffoli però ho trovato questo quindi per ora soffisco con questo questo pettine dai denti larghi Exotic qui c'è scritto che è della Exotic e dietro c'è scritto che è della MGA Cosmetici comunque un pettine legno completamente nero legno completamente legno oggi non ci sono ragazze è costato solo 2 euro perché appunto guardando un po' in giro sul web cercando consigli sui capelli su come eliminare per sempre le doppie punte ho visto che ci sono vari consigli e soprattutto tra questi quelle di utilizzare il pettine il pettine legno appunto cercare di spazzolarli in meno utilizzare il pettine con i denti larghi per soprattutto quando i capelli sono bagnati e così via infatti consiglio in particolar modo questo blog dietaebellezza punto myblog punto it dove vi sono veramente diversi consigli in questo caso per esempio vi sono i consigli su come cercare di prevenire le doppie punte allo stesso tempo come eliminare le doppie punte appunto cercando di tagliarle il più possibile e poi anche come fare uno shampoo perfetto per avere capelli bellissimi preparare i capelli appunto al lavaggio cercando di spazzolarli allora se si ha i capelli ricci con un pettine a denti larghi se invece li si allisci va bene anche una spazzola le lunghezze appunto quando a volta lavati per non rompere appunto i nodi bisogna partire dalle dalle punte poi a mano a mano salire cioè non partire mai dalla radice cioè vi sono veramente vari consigli e uno di questi consigli appunto è quello di utilizzare un pettine di legno perché pettine di legno elitrizza meno i capelli beh ragazze queste sono le mie compere scusate se mi sono dilungata visto che in realtà ho comprato pochissimo però appunto sono un po' logo erroica beh ragazze vi saluto se avete consigli da darmi sono bene accetti se avete domande cercherò di rispondervi per quello che so ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti